Tutte le vite naturalmente sono importanti e tutte le persone sono importanti. A volte muoiono persone comuni, a volte persone che hanno una certa notorietà. Unionemonregalese.it è la fonte. Siamo in provincia di Cuneo, Piemonte. Lutto in provincia di Cuneo per la scomparsa di Paolo Armando di Masterchef. Aveva partecipato a Masterchef. Dopodiché andiamo a caricare, vedete, l'Unione Monlegalese, il rispetto. E noi accettiamo il tutto. Accettiamo ancora. Ecco. Lutto in provincia di Cuneo. La cronaca per la scomparsa di Paolo Armando di Masterchef. La redazione di Unione Monlegalese. Unione Monlegalese, informatico, 49 anni, quindi molto giovane ancora, dipendente in provincia, lascia la moglie e ben tre figli. 18 giugno 2021. Sgomento e commozione fra i dipendenti della provincia di Cuneo per la morte in profisa del collega Paolo Armando, 49 anni, avvenuta nella sera di giovedì 17. Armando era un apprezzato informatico e lavorava in provincia. dal 2003 nel settore servizi informativi, impegnato in particolare nella gestione di programmi, eccetera, eccetera, una grande perdita per il nostro ente, ha detto il presidente della provincia Federico Borgna, ma anche per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo, leggo molto velocemente, ad apprezzarne le doti umane e professionali. siamo vicini alla famiglia, eccetera, sposato tra i bambini, viveva Madonna dell'Olmo, oltre alle doti professionali sul lavoro, Paolo Armando era anche impegnato in campo sociale ed educativo come catechista in parrocchia e si era distinto, la voce, si era distinto, prendo un po' fiato, per la passione e la competenza in cucina, diventando un volto televisivo celebre a livello nazionale grazie alla trasmissione Masterchef, che lo aveva ribattezzato la tigre. Purtroppo così è la vita, o meglio, così sono i vaccini. Vi invito a iscrivervi al mio canale e a mettere like se vi piacciono i contenuti che propongo e se apprezzate questo mio sforzo informativo, sperando presto di poter parlare di qualcosa di molto più allegro, ma noi fotografiamo e riportiamo soltanto ciò che accade. Grazie, alla prossima videopillolina.